Musica Polvere e faticose salite 40 anni fa sulle strade italiane si viaggiava così le principali arterie di comunicazione erano ancora quelle che Roma aveva costruito per le sue legioni le altre erano state quasi tutte tracciate negli ultimi 2000 anni con criteri poco diversi per lunghi secoli l'umanità che non viaggiava a piedi aveva conosciuto un solo mezzo di trasporto terrestre la trazione animale poi all'improvviso il trionfo della tecnica e l'invenzione del motore a scoppio avevano provocato una radicale trasformazione nel ritmo delle attività umane ma se gli uomini e i loro mezzi di locomozione erano cambiati le strade italiane erano rimaste nella maggior parte quelle del tempo di Cesare 1956 un anno dopo l'approvazione della legge Romita che stabiliva il radicale ammodernamento della rete stradale italiana una delegazione della società autostrade costituita da Liri parte per gli Stati Uniti è già stato delineato il tracciato della Milano-Napoli di quella cioè che sarà la spina dorsale delle comunicazioni terrestri della penisola e i tecnici che ne hanno preparato la realizzazione vanno a studiare i sistemi di costruzione e di esercizio delle grandi autostrade americane un doveroso preliminare dell'impegnativo compito che li attende sempre nel 1956 vengono appaltati i primi lotti di lavori e l'opera comincia a prendere forma l'autostrada del sole non sarà soltanto la più bella arteria motoristica del mondo o il simbolo dell'unità tra l'Italia della pianura padana e quella del sud cioè uno strumento di equilibrio economico sociale del paese la sua realizzazione crea anche le premesse per un profondo rinnovamento in tutti i campi a cominciare dal sistema di costruzione specialmente su questo tratto, tra le montagne più inaccessibili dell'Italia peninsulare che dividono Bologna da Firenze la genialità dei progettisti, la perizia dei tecnici e la tenacia delle maestranze vengono messe a dura prova qui il terreno, impervio e mosso, è traditore per sua intima natura argilloso, disposto in strati eterogenei, insidiato da acque sotterranee per sorreggere, proteggere il veloce nastro stradale che sta domando l'Appennino le valli vengono sorvolate da viadotti arditissimi i monti traforati da doppie gallerie questo è il passo del Citerna 726 metri sul livello del mare il punto più alto dell'autostrada del sole in questo punto sorgerà uno dei numerosi ponti sul Tevere sono 113 i viadotti e i ponti di grande luce costruiti lungo i 755 chilometri che vanno da Milano a Napoli molte di queste opere d'arte valicano i principali fiumi italiani il ponte sul Po, tra le opere d'arte dell'autostrada del sole è senza dubbio quella che ha richiesto la maggior mole di lavoro e rappresenta l'applicazione più imponente del cemento armato precompresso formato da 16 campate di luce variabile tra i 60 e i 70 metri il ponte che valica il più grande fiume italiano misura una lunghezza complessiva di 1176 metri dal Po all'Arno ecco uno dei tre ponti gettati sul fiume che bagna Firenze sorge a Levane e porta il nome di Giuseppe Romita il progresso tecnico raggiunto nell'attuazione di questi lavori trova facile conferma, anche per il profano, nella qualità, nell'efficienza e nella varietà degli elementi che compongono l'opera agli esperti non possono sfuggire altri fattori più specifici grazie a tutti per la fondazione stradale sono stati applicati, per la prima volta in Italia, criteri di stabilizzazione delle terre questa sovrastruttura, oltre a garantire una maggiore portanza e durata della pavimentazione ha consentito di industrializzare i sistemi di lavoro al largo uso di macchine ha corrisposto infatti un limitato impiego di manodopera specializzata oggi difficilmente reperibile l'autostrada del sole è stata portata a termine nel breve periodo di otto anni di contrennesi d'anticipo sulla data prevista anche per questo per il fondamentale ripudio delle vecchie tecniche che avrebbero imposto di diluire nel tempo gli appalti condizionatamente alla manodopera disponibile anche dall'uso del conglomerato bituminoso per la pavimentazione sono scaturiti enormi vantaggi come per la stabilizzazione si è ripetuta la possibilità di industrializzare l'intero ciclo produttivo l'approvvigionamento dei materiali, la miscelazione, il trasporto e la stesa del bitume gli impianti di produzione centralizzata dislocati lungo il tracciato ogni 35-40 km hanno poi permesso un capillare controllo della qualità dei conglomerati e un'assoluta uniformità delle caratteristiche della pavimentazione e un'assoluta uniforme 4 ottobre 1964 l'autostrada del sole è un fatto compiuto l'opera viene ufficialmente inaugurata dalle maggiori autorità del paese per completarla sono state impiegate 15 milioni di giornate lavorative ed è costata 272 miliardi i contributi dello Stato distribuiti in 30 anni assorbono un terzo della spesa la relativa esiguità di tale partecipazione è stata propiziata oltre che dall'impegno finanziario dall'efficienza imprenditoriale del gruppo IRI e dall'esperienza e organizzazione di altre società con sorelle prima fra tutte l'Italstrade e anche dalla qualificazione dei tecnici e dallo spirito di sacrificio delle maestranze così è stata tracciata sottolinea il presidente del consiglio Moro nel suo discorso inaugurale questa nuova modernissima strada che agevola i traffici sviluppa l'economia rende più vivo e più ricco il nostro paese non ci sono dubbi è questa la maggiore opera pubblica italiana del dopoguerra la più degna ammiriamola insieme ora partendo da Milano che già si può dire nel cuore dell'Europa più viva che a Milano confluisce e non soltanto idealmente delle 17 province toccate dall'autostrada del sole stiamo attraversando la più ricca, la più industrializzata di qui partono ogni giorno, ogni ora, prodotti di ogni genere per raggiungere i più lontani centri di consumo per chi viaggia l'assistenza è puntuale, continua la polizia stradale ha posti di guardia ogni 35 chilometri oltre alle 15 casermette rislocate lungo l'intero percorso e 20 sono i posti di soccorso con specialisti che possono intervenire rapidamente ed ovunque dopo 189 chilometri una tappa d'obbligo non tanto per noi quanto per coloro che vengono da oltre confine e scoprono per la prima volta l'Italia e scoprono per la prima volta l'Italia le innovazioni più spettacolari realizzate nell'allestimento della Milano-Napoli riguardano certamente le aree di servizio se ne incontrano 56 lungo i 755 chilometri del percorso e sono come oasi nel deserto d'asfalto vi si trova di tutto carburante, officine di manutenzione, ristoranti, bar, banche, empori, cabine telefoniche, uffici turistici e altri negozi per avvicinarsi anche tra questi monti al concetto della linea retta che è puramente astratto mantenendo il raggio delle curve sempre al di sopra dei 250 metri la distanza di visuale libera sempre al di sopra dei 180 metri e la pendenza sempre al di sotto del 3,75% la strada scavalca i dislivelli più duri con singolare dolcezza proponendo ad ogni svolta paesaggi di irripetibile suggestione finché la pianura non preannuncia Firenze e alle porte di Firenze l'edificio che accoglie la direzione d'esercizio dell'autostrada al centro di una vasta zona che comprende gli abituali servizi un motel e la chiesa dell'architetto Giovanni Michelucci esemplare opera del nostro tempo un raccordo allaccia la Milano-Napoli alla Firenze-Mare in poco più di un'ora si può raggiungere Diareggio e la Versilia ma arrivati a questo punto non è possibile ignorare la città che ci sta davanti per chi viene dal nord specie per chi arriva d'oltre confine Firenze è un capitolo di viaggio insopprimibile un paese moderno si comprende e si apprezza meglio in luoghi come questo che riportano con le testimonianze dei loro monumenti ai secoli più significativi di un'antica civiltà e cultura poi dalla Certosa verso il sud nella dolce riposante bellezza della terra toscana superato il baluardo dell'Appennino ecco un'altra Italia il paesaggio stesso la definisce qui innestata su gloriose esperienze nacque all'inizio dell'era moderna la più efficiente civiltà artigiana e contadina del nostro paese ma la Toscana conserva anche pressoché intatto tutto ciò che appartiene al suo secolare patrimonio storico e le città che si incontrano i lati dell'autostrada o solo si indovinano rivivono continuamente si può dire il loro passato più suggestivo rievocando feste e manifestazioni popolari le cui origini si perdono nel medioevo nelle belle piazze che sembrano quelle d'allora il gigantesco fantoccio il re Saracino troneggia col suo flagello a tre punte rotando minaccioso incontro ai cavalieri che cercano di colpirlo e vincere la giostra i cavalli che portano i colori delle antiche contrade vengono ancora spronati alla conquista del palio con lo stesso spirito la stessa esaltazione che animava i fantini di sette secoli fa grazie a tutti e finalmente l'Umbria la tenue tavolozza di un paesaggio che ricalca pare tutta la gamma del pastello e l'impariggiabile chiesa che sta a celebrare l'arte dell'uomo qui dove tutto celebra l'arte della natura tra 50 minuti saremo a Roma l'Italia con questa autostrada si è davvero accorciata e accorciandosi a come ritrovato se stessa per proporsi a chi vuole ammirarla, conoscerla o riscoprirla i monti dell'Alto Lazio il Soratte Roma è sempre più vicina la Valle del Tevere l'anticipa con le ampie volute del fiume ed eccola, quella che è più di una città non c'è retorica celebrativa che qui possa reggere all'irresistibile evidenza della realtà che è realtà di ieri e di oggi tutte e due mirabilmente fuse ma Roma, città viva di oggi propone tutta una serie di problemi che non sono di facile soluzione ha bisogno per esempio, e presto lo avrà di un nuovo sbocco sulla costa che oltretutto si innesti sia pure gradualmente con la programmata arteria tirrenica essenziale per l'assorbimento del sempre crescente traffico turistico la quasi ultimata Roma Civitavecchia anch'essa appartenente alla rete dell'Iri è una delle tante autostrade complementari necessariamente germinate dall'asse della Milano-Napoli la sua più immediata utilizzazione sarà quella di collegamento veloce tra la capitale e la zona a carattere residenziale che va da Fregene a Santa Marinella e tra gli insediamenti agricoli e industriali dell'entroterra e il porto di Civitavecchia da una parte l'aeroporto intercontinentale di Fiumicino dall'altra ora l'ultimo balzo torniamo sull'autostrada del sole per arrivare fino a Napoli attraverso grandi vigneti tra lontane prospettive selvagge si annuncia quello che un tempo recentissimo era l'amaro triste sud qui l'autostrada del sole ha realmente operato il miracolo rompendo penose e secolari situazioni da retratezza e sottosviluppo facendo nascere industrie promuovendo e moltiplicando i traffici modificando radicalmente la piattaforma ambientale la vita di intere regioni ma il vecchio sud sopravvive sempre nelle sue realtà incorruttibili e disparate in un piccolo paese come Aquino che diede i natali al grande teologo Tommaso o nell'alta solitaria abbazia di Monte Cassino distrutta dalla guerra e ora completamente ricostruita o nell'ex reggia di Caserta che fu la versaia della corte borbonica quando il sud e il resto d'Italia erano davvero divisi lontanissimi 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 a Napoli stazione d'uscita dell'autostrada del sole la società autostrade ha già iniziato la costruzione del suo naturale prolungamento fino all'Adriatico la Napoli-Bari e non a caso perché se è vero che un grande asse di trasporto sollecita gli impulsi produttivi è anche vero che questo asse deve essere integrato con un sistema di raccordi e collegamenti che lo uniscano alle aree più distanti specie a quelle suscettibili di sviluppo l'autostrada Napoli-Bari costituisce un'infrastruttura indispensabile per lo sviluppo del porto barese punto chiave per gli scambi commerciali e turistici con il Medio Oriente e del polo industriale che sta sorgendo in Puglia i due tratti terminali della nuova arteria la Canosa-Bari di 70 km e la Napoli-Baiano di 26 sono già stati aperti al traffico quando sarà completata la Napoli-Bari misurerà 248 km di lunghezza in prossimità del fiume Ofanto alle porte di Canosa un'altra grande via di comunicazione si allacerà poi alla Napoli-Bari sarà questa l'autostrada adriatica che correndo parallela a quella del sole collegherà le regioni sudorientali con Bologna e la pianura padana e quindi attraverso i raccordi più settentrionali che portano al confine Bari col cuore dell'Europa Bari col cuore dell'Europa Milano-Napoli i tronchi autostradali che la società creata dall'Iri sta costruendo o ha già finito di costruire questi tronchi si svilupperanno complessivamente per 1475 km che sommati ai 755 della Milano-Napoli danno un totale di 2230 km 1300 dei quali sono già stati aperti al traffico quando la rete autostradale italiana verrà completata l'integrazione del nostro paese nell'area economica più progredita del continente sarà un fatto compiuto allora risalterà maggiormente l'importanza di una città come Bologna che per la sua particolare ubicazione è sempre stata un grande centro della viabilità nazionale un tronco tangenziale autostradale con quattro carreggiate larghe complessivamente 48 metri assolverà presto il compito di decongestionare le comunicazioni alle porte della città le due carreggiate centrali sono destinate al traffico di transito sulle direttrici Autostrada del Sole Autostrada Bologna-Padova in costruzione e Autostrada Bologna-Canosa già in esercizio sul tratto che arriva fino a Rimini cioè alla riviera Romagnola che si avvicina così al più immediato e lontano nord alla regione Padana e ai paesi d'oltrealte Autostrada Bologna-Canosa futuro di Milano, alle sue prospettive di realizzazioni autostradali. La città pilota del nostro benessere si estende praticamente su un'area vastissima che esce dagli stessi confini amministrativi della sua provincia. Anche Brescia, a cui la collega già un'autostrada, anche Como, che si raggiunge percorrendo un'altra autostrada, quella dei Laghi, si può dire facciano parte della zona urbanizzata milanese. La Como Chiasso, che si sta costruendo, porterà ad un balzo Milano al confine elvetico. Quando anche le autostrade svizzere si salderanno con quelle tedesche che scendono dal nord, Milano convoglierà il traffico di un grande nastro autostradale di 2300 chilometri, che congiungerà Hamburgo a Reggio Calabria. E allora forse altre soluzioni si renderanno necessarie. Genova i suoi problemi li sta risolvendo ora, dopo anni di soffocamento, quasi di isolamento. L'economia della città Ligure è basata sul porto, l'industria e il turismo. Tre fattori condizionati dal sistema di comunicazioni con le due riviere e l'entroterra Padano. La società Autostrade ha completato il raddoppio e l'ammodernamento della Genova-Serravalle, che allacciandosi alla Serravalle-Milano ha sbloccato le correnti di traffico provenienti dal nord e ha ormai portato a termine anche l'autostrada che arriva a Savona e quindi alle porte della Francia. Non ancora ultimata è invece una terza autostrada, che parte sempre da Genova e percorre tutta la riviera di Levante fino a Sestri. E interessa perciò un'area a carattere prevalentemente turistico, che la progressiva saturazione dell'Aurelia aveva praticamente escluso dai tradizionali itinerari di fine settimana di molti piemontesi e lombardi. Finora, della Genova-Sestri Levante, è stato aperto al traffico solo il tratto Recco-Rapallo e già si registrano alcuni effetti positivi. È bastato l'incremento delle attività turistiche, conseguenza della realizzazione del tronco autostradale, a provocare maggiori possibilità d'occupazione capillarmente diffusa nell'interzona. 10 anni fa eravamo solo un milione ad andare in auto, oggi siamo più di 6 milioni. Il migliore tenore di vita, d'accordo, ma anche la scoperta, la consapevolezza di quanto le nuove grandi arterie abbiano allargato l'orizzonte dei nostri viaggi automobilistici. Avendo in sé stessa la propria fonte di energia, l'auto è infatti un'unità indipendente, autonoma. Chi la usa sa che può andare dove vuole e quanto lontano vuole.